Nel pomeriggio di martedì, nel corso di servizi finalizzati al controllo del territorio e contrasto di reati in genere, un equipaggio del nucleo radiomobile del comando provinciale carabinieri di Via dell'Istea ha stato in arresto un cittadino rumeno di 32 anni, già conosciuto le forze dell'ordine, poiché poco prima aver sottratto dall'esercizio commerciale Coindicos Italia alcuni capi di abbigliamento femminile del valore commerciale di circa 250 euro prebi a rimozione delle placche antiteccheggio. La refurtiva interamente recuperata è stata restituita all'esercizio commerciale.